Se vi chiedessi di pensare a una donna a capo di una grande istituzione internazionale, voi che nome direste? Io ho provato a farmi questa domanda mentre preparavo la puntata e il primo nome che mi è venuto in mente è stato quello di Christine Lagarde. Lagarde è nata in Francia nel 1956 e oggi è la presidente della Banca Centrale Europea. Prima è stata, tra le altre cose, direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale. Di donne ai vertici delle organizzazioni internazionali come Christine Lagarde non ce ne sono tante. Leggevo in una ricerca pubblicata quest'anno che dal dopoguerra a oggi le donne leader in organismi tipo l'ONU, l'UNICEF o la Banca Mondiale sono state solo il 13%, un numero ancora troppo basso, che però non ci deve far pensare che non ci siano professioniste più che qualificate per questi ruoli, con carriere eccezionali. Anche perché se si va a vedere la quota media di donne nei team di management di livello senior, la percentuale sale a 42. Allora io credo che da un lato sia fondamentale lavorare per colmare il divario di genere, implementando politiche e pratiche che favoriscano maggiore inclusione e pari opportunità. E dall'altro lato sono convinta che si debba dare sempre più spazio alle donne che possono essere considerate delle role model, cioè che rappresentano non solo una possibilità ma anche uno stimolo. Sono Francesca Milano e questa è Presenti e future, una serie che fa dialogare giovani studentesse e neolaureate con professioniste esperte. Ogni puntata ospita donne che hanno scelto strade diverse e condividono consigli, racconti, confessioni. Ogni episodio è una sessione di mentoring in formato audio, a disposizione di tutte e tutti. Il podcast è prodotto da Cora Media in collaborazione con Bocconi. È parte del progetto Changed by Women realizzato dall'Università per ispirare le nuove generazioni e sostenere l'empowerment femminile. Come vi anticipavo nella sigla, in ogni puntata sono in compagnia di altre donne. In questo caso con me c'è Federica Ranghieri che è una professionista nel campo delle organizzazioni internazionali. Federica è anche una delle protagoniste del progetto Changed by Women e in questo episodio ha il ruolo di mentore. Poi c'è una studentessa della Bocconi che si chiama Irene Cozzi. Ciao Federica e ciao Irene. Ciao Francesca. Che bello essere qui. Ho pensato di partire in questa nostra conversazione con delle domande molto dritte per conoscervi. Federica ci racconti in che cosa consiste il tuo lavoro? Ci provo. Il mio lavoro è un po' particolare per cui non ho un titolo che è facile da riconoscere o facile da categorizzare. Io lavoro alla Banca Mondiale e questo è chiaro. Il titolo del mio lavoro è ufficialmente Program Leader for Sustainable Development che è un po' difficile da tradurre in termini pratici. Quello che faccio è coordinare cinque settori in un country office. Io lavoro al Cairo in Egitto e lavoro su tre paesi che sono l'Egitto, lo Yemen e i Djibouti. Il mio lavoro consiste nel coordinare questi cinque settori. Cambiamenti climatici, disastri naturali, sviluppo urbano, la sicurezza dell'approvvigionamento di cibo, l'approvvigionamento d'acqua, ambiente e la inclusione sociale. Irene invece tu stai ancora studiando. Qual è stato il tuo percorso fino ad adesso? Allora innanzitutto ho frequentato il liceo linguistico a Milano e dopo mi sono iscritta alla Bocconi per frequentare un corso in scienze politiche, International Politics and Government. Attualmente invece sto frequentando il corso magistrale sempre nell'Università Bocconi in Politics and Policy Analysis. È un corso sempre di scienze politiche che però si occupa in gran parte di ricerca quantitativa economica volta allo studio dell'impatto delle politiche pubbliche sulla società. Mi piace moltissimo, lo scorso semestre sono anche stata sei mesi a New York in exchange e frequenterò il secondo anno della magistrale a Parigi. Irene mi collego a quello che ci hai appena detto per chiederti come è nata la tua passione per le organizzazioni internazionali. C'è stato un momento preciso in cui hai capito di avere questo interesse oppure è qualcosa che è maturato nel tempo? Allora credo assolutamente che sia la seconda opzione quindi è un interesse maturato nel tempo e come ho anticipato prima ho frequentato il liceo linguistico e già dal liceo avevo un forte interesse nei confronti non solo delle lingue straniere ma poi in generale delle culture di altri paesi e del mondo internazionale e fin da piccolo ho sempre viaggiato grazie ai miei genitori che me l'hanno permesso. Ho avuto questa spinta a voler comunicare con tutti e poi col tempo questo interesse è maturato e si è spostato sulla sfera pubblica e su imparare a come creare bene comune e l'idea costante è rimasta sempre quella di voler fare del mio lavoro comunque qualcosa che possa permettermi di mettermi a contatto con persone diverse da me di aiutare gli altri e di mettermi a servizio della comunità ecco. So che questo interesse per le altre culture caratterizza anche Federica che ha avuto una vita ricchissima di esperienze all'estero. Adesso hai detto che vivi al Cairo Federica ci racconti un po' dell'esperienza che stai facendo. Velocemente io mi sono laureata in Bocconi ho cominciato a lavorare alla banca mondiale dopo una serie di esperienze in Italia e sono stata per parecchi anni a Washington per 15-16 anni dove sono cresciute le mie figlie e quando le mie figlie sono andate al college per cui non volevo diventare l'empty nester come si dice negli Stati Uniti non volevo essere da sola a casa ho pensato esattamente così voi andate no no parto prima io per cui sono partita e ho deciso di andare al Cairo scelta di pancia ma sono molto felice di averla fatta è una vita completamente diversa chiaramente rispetto all'Europa o agli Stati Uniti è una città estremamente interessante molto intensa molto difficile ma dal punto di vista professionale estremamente arricchente. Sentendo di parlare noto davvero un'enorme passione per questo lavoro che fai e per il settore delle organizzazioni internazionali quindi Federica ti vorrei chiedere come ho fatto prima con Irene come è partito tutto? È partito tutto a caso nel senso che io non avevo assolutamente pianificato di entrare in un'organizzazione internazionale infatti sono molto contenta che Irene dica che anche per lei è stato non immediato come scelta ma è una scelta che si sta maturando nel mio caso io sono entrata in Bocconi ho fatto discipline economiche e sociali ho studiato un sacco di cose interessanti poi ho fatto una tesi di economia ambientale all'epoca sto parlando di tanti anni fa all'inizio dell'economia ambientale era all'inizio del protocollo di chioto era all'inizio della conferenza di rio un sacco di entusiasmo su questi temi e assoluta ignoranza per cui era super interessante al mio punto di vista per cui è tutto cominciato a metà degli anni 90 mi sono laureata con franco malerba di organizzazioni e economia industriale lui ha accettato il fatto di buttarsi sull'innovazione tecnologica ambientale e mi ha dato l'opportunità di andare in giro per varie università negli stati uniti in canada trovare documenti trovare informazioni parlare con i professori lì che sono notoriamente molto disponibili e poi ho fatto la tesi lì ho lavorato alla fondazione mattei dell'eni per alcuni anni ho cominciato a lavorare in università e poi sono finita a presentare un paper all'oxe a parigi era un paper di cui andavamo molto fieri eravamo un gruppo di tre ragazzi i miei genitori ci chiamavano scappati di casa e cercavamo di fare tutte queste cose un po innovative e abbiamo presentato questo paper fatto su un caso di studio sull'allora gruppo montedison e a questa conferenza c'erano tre persone della banca mondiale che stavano presentando anche loro un paper su quello che allora in maniera super innovativa si chiamava carbon finance cioè la finanza collegata ai sistemi di scambio dei diritti di emissione del clima e hanno sentito la mia presentazione del paper mi è piaciuta abbiamo cominciato a scriverci mi hanno chiesto di fare consulenza per loro dall'italia e poi da lì mi hanno detto ma perché non provi a fare un application alla banca ho fatto l'application sono stata veramente fortunata mi hanno preso ed è cominciato così beh federica direi che hai avuto una carriera che per molte persone è la carriera dei sogni irena invece tu dove vorresti lavorare che cosa desideri per il tuo futuro diciamo che avevo pensato alle nazioni lite che in fondo è una delle organizzazioni internazionali più conosciute la prima di cui si viene a conoscenza quando si comincia a studiare in questo campo e diciamo che per me le nazioni lite incarnavano e racchiudevano le mie grandi aspirazioni e sogni ad oggi comunque penso mi piacerebbe svolgere un lavoro più analitico e applicato all'interno sempre di un organizzazione internazionale quindi ora sto puntando a lavorare per un'organizzazione istituzione europea ad ogni modo comunque mi piace tenermi ancora molto porte aperte visto che sono giovane e vorrei essere flessibile nelle mie decisioni lavorative in futuro allo stesso tempo non ho ancora deciso in modo definitivo se voglio rivolgermi più al settore pubblico a quello privato e per questo mi sento di chiedere a federica se secondo te sia più difficile fare carriera nelle organizzazioni internazionali piuttosto che nel privato per chiederti anche quanto siano necessarie secondo te delle conoscenze personali all'interno delle organizzazioni o se si riesca anche a farsi strada da soli. Penso che in ogni caso qualsiasi sia e sarà la tua scelta organizzazioni internazionali europee mondiali settore privato in qualsiasi tipo di organizzazione conti molto avere dei rapporti personali e avere un buon network è molto utile conoscere qualcuno all'interno di una società per capire che cosa faccia veramente questa società quali siano le attività quali siano le competenze che cercano quali siano i profili più adatti per entrare ed è utile parlare con persone e confrontarsi perché magari un'organizzazione che hai pensato fantastica in realtà poi in pratica non è esattamente quello che vuoi per cui io sinceramente se posso suggerire qualcosa a qualcuno networking ma dalla mattina alla sera. Grazie mille per questo consiglio soprattutto per quanto riguarda il fatto di conoscere qualcuno all'interno dell'organizzazione per sapere esattamente di cosa si occupa perché penso a volte ci sia confusione magari legata alle vaste organizzazioni per quanto riguarda cosa si fa nella pratica tutti i giorni all'interno di questi uffici e mi sono resa conto per esempio dopo aver studiato approfonditamente le nazioni itella world bank il fondo monetario internazionale che a volte in realtà così vaste ci possa essere la percezione che fatichino a raggiungere magari i risultati desiderati mentre magari in realtà più piccole questi risultati siano più tangibili e visibili da chi ci lavora dentro e quindi per questo ti voglio chiedere se per la tua esperienza si riesce ad ottenere l'impatto sognato lavorando nell'organizzazione internazionali e se questo sia evidente nel lavoro di tutti i giorni la domanda che si fanno tutti quelli che entrano in questo ambito e sarò in grado di creare un impatto qualsiasi cosa faccio avrà un senso come probabilmente sai lo sento da come parli chi vuole entrare in queste organizzazioni ha un enorme livello di passione cioè per forza non si entra perché ti pagano bene non si entra perché è prestigioso si entra perché vuoi provare a cambiare le cose si entra perché sei convinto che anche il tuo piccolo contributo possa aiutare chi ne ha bisogno nel posto più sperduto sulla terra poi però ti chiedi ok questo è il motivo per cui io sono entrata ma durante la mia carriera a un certo punto avrò procurato l'impatto avrò procurato i benefici avrò procurato qualche cambiamento a queste persone che volevo servire inizialmente per cui la tua domanda è la domanda con tutte le lettere maiuscole che chi entra nel mondo dello sviluppo internazionale si chiede banca mondiale e tutte le banche di sviluppo regionali ce n'è una in ogni regione latino america asia africa eccetera e le nazioni unite sono delle macchine enormi dove è difficile riuscire a vedere tutti i passi che vengono compiuti si entra si lavora in un pezzettino del meccanismo e poi diventa più complicato magari riuscire a vedere il valore finale di quello che si è fatto io sono stata molto fortunata sono stata molto fortunata perché ho lavorato su progetti tangibili io in banca mondiale lavoro proprio su operazioni cioè noi costruiamo il ponte costruiamo il pozzo che dà l'acqua costruiamo la strada che porta al mercato per cui nel mio caso personale io vedo il risultato di quello che andiamo a fare magari ci vogliono cinque anni magari ce ne vogliono sei ci vuole molta pazienza ed è credo una delle sensazioni più meravigliose che possa assolutamente accadere cioè anche soltanto l'idea di aver dato qualcosa in più a un gruppo anche ridotto di una popolazione sperduta in un villaggio dello yemen per me ha un valore incredibile federica hai parlato di fortuna e secondo me soprattutto per le donne ce ne vuole una buona dose perché essere donne non è mai semplice nel mondo del lavoro soprattutto in italia irene tu da giovane donna che sta per iniziare la sua carriera hai qualche preoccupazione in merito cioè pensi che l'essere donna ti potrà penalizzare hai qualche domanda in questo senso per federica sì assolutamente questa è una domanda che mi sono posta spesso in tutte le sue sfaccettature per quanto riguarda le possibilità che abbiamo come donne il salario la retribuzione e ho capito soprattutto nell'ultimo semestre studiando attraverso molti paper e grazie ai miei professori che è molto importante che le donne ricoprano delle posizioni apicali all'interno del decision making e questo perché semplicemente porta più diversità in posizioni appunto di governo e di decisione globale e per questo vorrei chiedere a te secondo sempre la tua esperienza cosa c'è di nuovo e di positivo che le donne possono portare diverso magari da una figura maschile in queste posizioni di policy making a livello globale sono convintissima che le donne possono fare un'enorme differenza e vorrei francesca se non ti dispiace tornare sul discorso di fortunata di nuovo penso di aver detto fortunata perché sono in trappola e sono stata in trappola nella mia cultura per tutta la vita il fatto di aver usato questo oggettivo testimonia il fatto che di nuovo da donna se ottengo qualcosa che probabilmente mi spetta se ottengo qualcosa per cui ho fatto sacrifici enormi io dico che sono fortunata errore enorme per cui vorrei poter ritirare questo aggettivo e lo ritiro in questo modo io sono stata fortunata nel senso che all'interno della banca mondiale sono riuscita ad entrare in un settore che mi permette come dicevo prima di vedere i progetti di farli di disegnarli di implementarli di applicarli e di vederne i risultati ma non ci sono entrata per caso e poi è vero portiamo delle cose particolari come donne ci torno tra un secondo abbiamo una sensibilità diversa abbiamo una capacità al dialogo che altri non hanno per cui abbiamo sicuramente dei vantaggi che portiamo nel campo del lavoro però vorrei tornare a questo discorso della della fortuna per poter fare qualsiasi cosa vogliamo fare noi dobbiamo avere una competenza che è maggiore rispetto a quella degli uomini è vero è inevitabile e noi ce la mettiamo per cui Irene e tutte le altre come te tu saprai il doppio di quelli che vorranno entrare nella nella stessa posizione dove vorrai entrare ci mettiamo una competenza altissima ci dobbiamo mettere anche una perseveranza totale assoluta non si molla non si molla mai qualsiasi cosa succeda si continua a fasi alterne a volte un po di più a volte un po di meno bisogna usare la self compassion giusto e poi si cerca di essere propositive di andare avanti e di mantenere il proprio ruolo non scusarsi non dicendo che sei fortunata non dicendo che ce l'hai fatta perché così è capitato ma ce l'hai fatta perché sei brava per cui spero che sarà quello che dirai tu a te stessa tra un paio d'anni quando sarai nel posto dove vuoi essere e potrai cominciare una carriera molto positiva nel nel futuro grazie mille federica devo dire che hai parlato veramente ad alcune delle più grandi preoccupazioni che sento di dire io e molti mie coetane che studiano non solo scienze politiche ma in generale e quindi anche per questo come hai detto prima assolutamente non si entra nelle organizzazioni internazionali per come ti pagano ma si entra per passione ed assolutamente vero però allo stesso tempo chiedo anche cosa diresti tu comunque a una giovane ragazza che si è impegnata per tantissimo tempo e quindi ce l'ha fatta si arriva con lo studio e con tanto lavoro perseveranza come hai detto tu però chiaramente bisogna scendere a compromessi con il fatto che serve anche poi ad un certo punto ad una certa età guadagnare abbastanza e quindi c'è comunque magari la tentazione di cercare un altro lavoro o rivolgersi alla consulenza al privato dove chiaramente è più facile al mondo d'oggi in una città come milano trovare lavoro penso che non ci siano delle decisioni serie a o di serie b penso che non ci siano delle decisioni migliori di altre e certe volte come dicevamo all'inizio non è detto che tu sappia dove vuoi arrivare ci sono esperienze super importanti che si possono fare anche in settori che non sono magari quelli tradizionali o che hai immaginato essere il gradino che ti aiuta ad arrivare dove vuoi arrivare stai pensando a organizzazioni internazionali ma la consulenza serve moltissimo stai pensando ad andare alle nazioni unite magari ti serve lavorare in una ngo da qualche parte stai pensando a diventare un economista al fondo monetario beh ti serve un dottorato ci sono una serie di attività ci sono una serie di scelte che si possono fare che magari non sono immediate o ti sembra che possano essere delle scelte collaterali ma hanno la famosa collateral beauty cioè ti portano a raggiungere il risultato che vuoi per cui perché no anzi io penso che esplorare strade diverse aiuti moltissimo a creare le competenze che ti serviranno nel futuro e a diventare un candidato più credibile tornando un attimo al tuo lavoro federica secondo te quali sono le qualità più importanti per svolgerlo al meglio competenza numero uno probabilmente di nuovo ho la mia età sono un po tradizionale ma sono molto convinta che sia estremamente importante avere le competenze tecniche qualsiasi sia l'argomento che si svolge nel caso specifico del lavoro in un'organizzazione internazionale sicuramente serve moltissimo la pazienza la capacità di adattabilità o quello che adesso si usa questo nome la resilienza i risultati certe volte hanno bisogno di anni certe volte la controparte ti dice di sì poi cambia il governo e per cui improvvisamente i lavori che stavi facendo i progetti che avevi deciso di portare avanti crollano e devi cominciare da capo per quello che ci vuole una pazienza assoluta ci sono tantissimi inconvenienti che possono essere di tipo macroeconomico sistemico ci può essere un disastro naturale ci sono talmente tanti fattori esogeni che possono contribuire a cambiare l'andamento di una qualsiasi negoziazione che ripeto bisogna essere pronti all'inevitabile all'inaspettato ma anche il fatto di lavorare insieme quello che abbiamo visto in tantissimi progetti che una persona da sola o anche solo un team non può fare la differenza per cui soprattutto in queste situazioni di criticità in paesi con grandi e forti complicazioni il fatto di lavorare in team il fatto di avere persone che vengono da esperienze culture diverse il fatto di provare anche a spostare l'attenzione della controparte del governo in questione attraverso molteplici idee che magari possono essere su progetti di infrastruttura ma magari accompagnati da progetti di riforma politica magari accompagnati da supporti analitici che spiegano come affrontare progetti e problemi e trovare soluzioni innovative è utilissimo prima di chiudere ci sono altre domande che vorreste farvi vicendevolmente beh allora innanzitutto sei una persona di grande ispirazione per me e penso per tante altre persone come me e soprattutto questo per le decisioni molto coraggiose che hai preso di cui hai parlato adesso per esempio ti sei coraggiosamente trasferita al cairo da sola e hai menzionato anche di avere delle figlie e per questo ti chiedo come hai conciliato il lavoro e la vita privata e allo stesso tempo come hai fatto diciamo anche a non perderti nel tuo lavoro non è facile ci sono tantissime costrizioni ci sono tantissime difficoltà però nel mio caso c'è una passione totale assoluta per entrambe le cose il tema della famiglia è fondamentale io ho due figlie ho marito ho genitori ho tutto quello fortunatamente di nuovo che abbiamo i più fortunati di noi hanno e il fatto di prendere andarmene da milano a washington da sola con le figlie lasciando marito e il resto della famiglia non è stato semplice ho cercato di dare alle mie figlie un messaggio molto chiaro che era un messaggio di apertura verso quello che la vita ti dà nessuno sa cosa può succedere io non immaginavo di finire al cairo sinceramente non immaginavo di lavorare in iemen non immaginavo di lavorare in afghanistan però l'ho fatto e l'ho fatto con una passione totale assoluta è capitato l'ho preso in mano e ho cercato di fare il meglio che potevo spero che questo abbia dato alle mie figlie l'idea che ci sono scelte difficili ma che sono scelte premianti che se sei contenta sul lavoro se fai qualcosa che ti dà soddisfazione sei più contenta anche nella gestione dei rapporti familiari e nella gestione dei rapporti nel mio caso con le mie figlie questo senso di indipendenza secondo me è fondamentale io cerco di crescere le mie figlie dicendo che devono essere indipendenti non solo nel modo di pensare ma anche nella capacità di gestirsi e spero che sia un messaggio che sia arrivato e secondo me non arriva solo dalle parole ma arriva dalle scelte e dalla passione che ci metti grazie federica e grazie irene per questa chiacchierata grazie mille per questa bellissima conversazione davvero bello grazie in chiusura voglio soffermarmi su un aspetto di cui ha parlato federica cioè l'importanza di crearsi un network di conoscenze so che è faticoso soprattutto all'inizio ma nella mia carriera il networking ha fatto e continua a fare la differenza quindi bisogna cercare di non farsi sopraffare dalla paura bisogna capire su quali opportunità su quali eventi vale la pena investire tempo ed energie e poi presentarsi raccontarsi chiedere contatti scrivere insomma vale la pena provarci sempre secondo me grazie ancora a federica e a irene e in bocca al lupo per tutto quello che vi riserva il futuro presenti e future è un podcast prodotto da cora media in collaborazione con bocconi è parte del progetto changed by women il podcast è scritto da me francesca milano insieme a chiara gregoretti con la supervisione di francesca bottenghi la cura editoriale è di graziano nani la supervisione del suono e della musica è di luca micheli la post produzione il sound design sono di emanuele moscatelli la senior project manager e anna nenna la producer è sabrina patilli le registrazioni in studio sono a cura di luca possi grazie a tutti